ciao mi chiamo mafi roberto questo è un video blog io volevo fare vedere che cosa mi piace fare che ho anche scritto su alcuni biglietti che adesso faccio vedere tipo qua ho scritto wii perché mi piace giocare con la wii poi anche altri sempre biglietti che ho scritto alcune cose tipo ho scritto ballo perché mi piace anche ballare ultimo biglietto ho scritto bere bere perché mi piace bere la coca cola zero volevo fare il suo video fare e vedere se cosa che ho fatto che ho creato e ci vediamo prossimi video ciao